Soffiare sul fuoco non è necessario, ma comprendere le cause sì, è un dovere cui nessuno deve rinunciare. Scusate il paragone che in una terra come la nostra, appena arza dal fuoco, risulta dolente, ma è necessario nel caso dell'omicidio avvenuto l'altra notte al poetto, che da quanto sta emergendo sembra essere stato commesso da un ragazzo poco più che ventenne. Cosa è avvenuto, come e il perché, al di là dell'unicità del fatto specifico, presenta caratteri comuni e i tanti atti di violenza che in città si stanno rendendo sempre più frequenti e pericolosi. Un tempo, si sarebbe detto, sono degli avvinazzati che nel loro torpore hanno liberato istintivamente paure, rivalze e umiliazioni in un atto di ribellione, che ha trovato la prima causa disponibile per questa esplosione. E già in questa asserzione individuiamo una situazione sociale degradata, oltre al frequente abuso di alcolici da parte dei giovani. Ragazzi e ragazze che alterando il proprio stato di coscienza cercano di divincolarsi dalle maglie strette che la società e il sistema economico impone loro con prepotenza, senza lasciare scampo. Non intendiamo rimuovere le colpe o giustificare gli atti, come qualcuno potrebbe credere, ma cercare di comprendere. Certo, si potrebbe impedire, erga omnes, l'utilizzo di alcolici in alcuni orari, ma ci sarebbe sempre il venditore di turno, come accade nel centro cittadino, che distribuisce illegalmente bevande alcoliche ai minori. Potremmo mettere un poliziotto in ogni angolo della città e così sì saremmo sicuri, ma al di là dei costi gli atti di violenza verrebbero solo repressi, non disolti. Forse dovremmo guardare con più attenzione al mancato percorso educativo o scolastico, alle carenze istituzionali, alle rompere di brutture mediatriche, cui i social, ma non solo, sono veicolo e in primis alla disperazione sociale, che sembra accentuarsi sempre di più.